Agrovoltaico, come gli agricoltori possono entrare nella partita dell'agrovoltaico? Quali tipi di accordi si possono fare con le aziende invece che sono nell'industria dell'elettricità? Ci sono due modelli principali, il primo modello è che l'investimento venga fatto interamente dell'agricoltore e quindi in questo caso è molto semplice, l'agricoltore decide di investire nella tecnologia agrivoltaica, quindi di continuare a fare la sua attività e nel frattempo di differenziarla perché avrà anche un reddito dalla vendita dell'energia. Il secondo modello è altrettanto semplice, è quello di una collaborazione con un operatore terzo che potrebbe essere un operatore, ad esempio, elettrico, un investitore e in quel caso il modello più semplice è quello dell'ATI, quindi un'associazione temporanea di imprese dove ognuno decide in maniera privatistica di mettere delle risorse a disposizione, quindi magari co-investire sulla realizzazione dell'impianto sempre agrivoltaico, quindi sia sulla parte elettrica sia sulla parte anche agricola e di dare delle garanzie in base a quelle che sono le proprie capacità economico-finanziarie. Quindi anche in questo modello, quindi in entrambi, sia nel precedente che in questo, c'è una partecipazione attiva dell'agricoltore. Perché nell'agrovoltaico non è possibile fare a meno dell'azienda agricola, perché ci vuole proprio la gestione del terreno, quindi è proprio, diciamo, una specie di partnership. Questo sicuramente, perché comunque l'attività agricola è un'attività principale in un impianto agrovoltaico, quindi è necessaria una cooperazione sul terreno per far sì che comunque l'agricoltura debba essere effettivamente produttiva, quindi non si può prescindere dalla parte agricola. Fra le possibilità c'è anche quella, per quanto riguarda per esempio il PNRR, che entra in gioco un'altra azienda agricola, cioè che un agricoltore scelga di lasciare semplicemente il diritto di superficie o di vendere il terreno invece a una ditta che si occupa di elettricità. Per il PNRR sono ipotizzabili due casi. Il primo che abbiamo detto prima, nel senso che è l'investitore agricolo che fa tutto il piano di investimento, appunto, oppure che decide di entrare in maniera obbligatoria in un ATI, quindi nel PNRR effettivamente questa ATI fra mondo eventualmente di investitore terzo e investitore agricolo è obbligatorio. Se non andassimo a PNRR ci potrebbe anche essere un soggetto terzo che può essere un investitore terzo che realizza la sua impresa agricola e realizza tutto l'investimento direttamente. Quindi è questa un po' la differenza, cioè non c'è un obbligo come nel PNRR di avere un ATI poi con lo stesso produttore agricolo del territorio. Poi c'è anche una terza possibilità, cioè quella che un agricoltore dia il diritto di superficie all'azienda che gestisce la parte elettrica e ci sia una terza azienda agricola che interviene. Come? Questo è un modello molto semplice, nel senso che il proprietario del terreno può decidere di dare il diritto di superficie o di vendere i terreni, quindi liberamente, perché decide che non vuole continuare a coltivare. E quindi ci sono dei soggetti terzi che possono subentrare nel modello di sviluppo che si faranno carico della realizzazione sia della parte elettrica e eventualmente anche della parte agricola. Quindi interverrebbe un'azienda agricola terza? Assolutamente sì, perché chiaramente chi fa l'investimento nella parte elettrica non ha competenze in attività agricola, per cui chiamerebbe a sua volta un soggetto specializzato che può garantire la coltivazione per i 20-30 anni e che quindi possa effettivamente svolgere queste attività specializzate di agricoltura che altrimenti non potrebbe fare da solo.